Siamo con il sindaco Luigi De Magistris nella sua sala e si è appena conclusa la presentazione del libro di Ettore De Lorenzo il quale ha raccolto una serie di interviste a 20 anni dalla tragedia di Capace e di Via D'Amelio e nel 1992 l'autore era ventenne, oggi ad essere ventenni sono i ragazzi che sono nati nel 92 quali differenze è nota tra i ventenni di allora e i ventenni di oggi? Innanzitutto è cresciuta molto l'attenzione, la sensibilizzazione, la voglia di conoscere da parte dei giovani è molto bello vedere ragazzi che non c'erano nel 92, che oggi conoscono perfettamente che cosa è accaduto a Capace che cosa è accaduto a Via D'Amelio, quindi vuol dire che c'è chi ha parlato, chi ha raccontato, chi ha narrato chi ha recitato nei teatri, è cresciuta la consapevolezza di quanto le mafie si debbano sconfiggere con la cultura con l'istruzione, con il sapere, con la conoscenza e con le alternative che quindi le mafie non sono solo una questione di forza e l'ordine e magistratura ma riguardano tutti noi Giovani oggi erano presenti, erano presenti anche giovanissimi, cosa possono dare i giovani a Napoli e Napoli ai giovani? Ma tantissimo, il rapporto di collaborazione reciproca, i giovani chiedono alle istituzioni, al sindaco, a tutti di fare così come le istituzioni chiedono ai giovani di essere protagonisti, bisogna lavorare tutti insieme la legalità appartiene a tutti, con le gesta concrete, con le azioni quotidiane, con le scelte che ogni giorno facciamo io credo che questa è una città che ha nel DNA la legalità, l'antiviolenza, la tolleranza, la solidarietà, l'uguaglianza è una città di cui si racconta certe volte solo l'aspetto negativo noi dobbiamo estirpare quelle ragioni sulle quali la camorra e il malaffare si sono radicate nel corso degli anni quindi fare un lavoro per dare soprattutto alternative sociali, culturali, economiche a chi ha sbagliato cercare di recuperare chi ha sbagliato e se qualcuno proprio non vuole essere recuperato mandarlo via da questa città, questa deve essere la città della legalità in questi giovani sono una forza traneante straordinaria perché non dimentichiamolo che Napoli è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani Come Federico TV siamo molto attenti sul tema della legalità tant'è vero che la settimana scorsa abbiamo organizzato la presentazione di Football Clan nel libro di Raffaele Cantone la cui testimonianza è anche compresa nel libro di Ettore De Lorenzo però spesso è difficile sensibilizzare e coinvolgere su questi temi i suoi consigli e il suo incoraggiamento? No, no, fate benissimo parlare, fare iniziative, raccontare, invitare relatori delle mafie bisogna parlare non è un caso che le mafie e la camorra non vogliono che si parli, che si racconti perché altrimenti cresce la sensibilità, cresce la voglia di lottare, cresce la consapevolezza cresce la solidarietà, cresce la vicinanza a chi è impegnato in prima linea quindi fate molto bene, avete il mio sostegno tra l'altro io con i mille impegni da sindaco cerco sempre di esserci tra i giovani di ascoltare, di parlare, di raccontare, di sottopormi a una dialettica forte quindi apprezzo moltissimo queste iniziative nelle università e nelle scuole ringraziamo il sindaco per la sua disponibilità in linea alla relazione ringraziamo il nostro canale 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 ringraziamo il nostro canale